Fosti Greaser è un attivatore biologico innovativo che può sostituire la normale trappola grassi laddove non sia possibile installarla per problemi di spazio o di autorizzazione allo scavo. Viene dosato in modo automatico e continuo direttamente nello scarico della cucina attraverso il Fosti Greaser Dosa System, un dispositivo semplice di piccole dimensioni che necessita soltanto di una presa elettrica. Fosti Greaser è un liquido completo che combina l'azione sinergica di cinque microorganismi naturali, non patogeni, non OGM, certificati sicuri per uomo, animali e ambiente. A contatto con l'acqua di scarico e di grassi di cucina i microorganismi si risvegliano e producono enzimi specifici che eliminano le sostanze organiche. La crescita esponenziale di questi amici crea una sorta di esercito formato da operai che ripuliscono lo scarico delle cucine e la trappola grassi, liberando da intasamenti e cattivi odori. La loro azione prosegue sino a quando c'è grasso e deposito. Fosti Greaser allontana tutti gli insetti striscianti molesti e di batteri patogeni, creando in modo naturale un ambiente sano senza gli effetti collaterali dannosi di disinfettanti e insetticidi. Fosti Greaser genera risparmio perché dosato in continuo automaticamente riduce i costosi interventi di pulizia meccanica e di rischi legati all'utilizzo di prodotti fortemente alcalini o acidi. Applicato regolarmente negli scarichi attraverso il Fosti Greaser Dosa System svolge un'azione naturale ed ecologica, amica dell'ambiente. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!